Ho trovato un gruppo di lavoro molto interessante, predisposto, stiamo lavorando in maniera molto intensa a disposizione del mister e dello staff, poi qui penso che ci sia tutto il necessario anche di più per poter fare qualcosa di importante, quindi a livello di gruppo ho trovato veramente dei ragazzi, veramente dei bravi ragazzi che veramente sono predisposti al lavoro, quindi se questi sono i presupposti penso che si possa fare qualcosa di interessante quest'anno. Penso che indipendentemente dal girone che si faccia, poi in tutta Italia la Serie D è un campionato complicato, penso che le caratteristiche che dobbiamo avere sicuramente è la consapevolezza e la voglia di voler fare qualcosa di importante perché è nelle corde di questa squadra, quindi indipendentemente da quale girone andremo ad affrontare penso che dobbiamo veramente avere la consapevolezza, la voglia e la determinazione di poter fare o cercare di fare qualcosa di veramente importante per questa società. Ma guarda, penso che il centro sportivo parli da solo, io dal primo giorno che sono entrando sono rimasto incantato perché penso sia un qualcosa di unico, o perlomeno io, perlomeno non mi era mai capitato e penso che a pochi sia capitato di trovare una struttura del genere, con un'organizzazione del genere, con dei campi così, veramente c'è tutto per poter fare qualcosa di grande, quindi in questo momento dobbiamo metterci a disposizione, continuare a lavorare e ovviamente aspirare a fare qualcosa di veramente importante.